Ciao a tutti ragazzoli e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video Sono un po' demoralizzato perché oggi sarebbe dovuto uscire un video reazione Come avevo già annunciato nella live di qualche giorno fa, almeno per chi era in live o chi si è rivisto la live Dicevo che appunto doveva uscire un video reazione a un programma televisivo riguardante i tatuaggi Beh, l'ho provato, è giovedì e domani esce appunto questo video che state vedendo adesso Sono le ore 17.43, è da ieri sera che provo a editare e a ricaricare appunto il suddetto video Che già ho registrato e editato, ma ovviamente, come immaginavo, continuo a darmi comunque il copyright È una reazione a un video, ho cercato di tagliare le parti, non ho portato tutta la puntata intera Ma questo è comunque YouTube, dal lato è anche buono perché il copyright è giusto che ci sia Però per certe cose dovrebbero un attimo rivederlo, soprattutto se si fa una reazione a un video Non si porta comunque tutto il contenuto per intero Però non siamo qui a parlare di queste brutte cose, non mi do per vinto, ci proverò Ci sono tanti YouTuber che lo fanno, sempre per rimanere in tema voglio portare una reazione a qualcosa Quindi ho pensato, perché no, proviamo a reagire a dei video che trovo random con l'hashtag tattoo su TikTok Ma prima di iniziare voglio ricordarvi di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, compreso il mio TikTok Seguitemi, in più, seguitemi qui se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche Ma iniziamo subito Allora ragazzi, prendiamo il telefono, attiviamo intanto la videocamera Ecco qua con l'hashtag tattoo, bene, ci sono già un paio di tette che dovrò andare ad oscurare Perché se no qua già ci bloccano tutto anche questo Andiamo ad aprire il primo e vediamo cosa c'è Ah, beh, bello pesante, eh Stiamo facendo bel lavoro nero, ho una cover up, sembra ci sia sotto qualcosa di vecchio Non so quanti aghi siano quelli, ma è un trattore ragazzi, è un cazzo di trattore Assurdo, ho visto tatuare con degli aghi così Non lo so, non ho mai provato a farmi fare una roba del genere Non so se mai vorrei provare, ma mai dire mai ragazzi, mai dire mai Ok ragazzi, passiamo al secondo C'è uno sputo praticamente Ah, c'è sotto qualcosa, non pensavo Made with love Beh, questo è carino, dai, fatto così, piccolino, stampato così Carino, ci può stare, ci può stare Questo è una bomba ragazzi Ultimamente lo sto vedendo ovunque, sia le foto che i video Ne ho visti anche molto simili Beh, veramente, a parte i colori Cioè, penso che questi colori qua in Italia non esistano Poi adesso non so chi l'abbia fatto Ma è spettacolare, cioè guardate che roba Voglio vederlo alla resa lungo andare come risulta O dopo essere guarito Però questo, anche questo, ultimamente sta passando un botto ragazzi Ha avuto una genialata, infatti sta facendo un sacco di views e di like È un tatuatore che da quello che ho visto, vabbè, a parte tatuare Non lo so, fa queste cose sui dolci, sul cibo E ha avuto una bella idea perché sta facendo veramente un botto di views Nice Dovevo pensarci prima magari La macchinetta a casa ce l'ho e la uso anche poco Questo l'ho visto già, fatto in Italia Quindi abbiamo un tatuatore italiano Beh, bomba, bomba, dai, ci sta, ci sta Forse è troppo esagerato un disegno così sulla schiena Farei qualcos'altro, questo lo farei un pelo più piccolo Devi talmente mettere tanti dettagli che magari si vanno un po' a perdere le cose E ovviamente è un tatuaggio da vedere Da lunga, da lunga distante, cioè da distante comunque Molto lontano Perché se vai da vicino sicuramente la resa è diversa Ma da lontano la resa è top Ma tutti i tatuaggi di una certa dimensione comunque Vediamo qua Anche questo, c'è sotto qualcosa Un insegnante Surprise Sì, c'è qualcosa Godspeed Sì, pare, pare di sì Ok, qua vediamo Qua una cosa microscopica C'è davvero sotto Ah ok, solo lo stance Un po' più piccolo, no Cioè poi messo lì Cos'è questo sputino Ah bello Rosso carino, dai Sembra un neo È un neo praticamente ragazzi Ok, questo qua fa un tatuaggio oggi Alziamo Sto guardando solo perché è figa Solo per quello ragazzi Sennò avrei già schifato Sennò avrei già schifato Sennò andiamo avanti Ma sono curioso di vedere Ok È stato disegnato Non ho capito Cioè non ho ascoltato in realtà Sto guardando solo perché è figa Il tatuaggio è horrible Fatto male ma forse l'ha fatto così per un senso Una figlia Una madre La nonna Fanno un tatuaggio divertente Beh più che divertente Abbastanza horrible Oh vabbè Questa Allora Tutte le volte qua poi si vedono Senza guanti Senza di qua Senza di là Senza igiena Andatela a dire a questa Che fa dei capolavori Io mi farei tatuare Da uno di sti popoli così Assolutamente Ma che roba Minchia Ci ha fatto un buco Però È un ricordo È una cosa figa Anche perché comunque Da quello che so Non Non possono A meno in quei popoli C'è una persona che è Prescritta per fare questo genere di tatuaggi Non possono farlo Chiunque Senza musica Che qua Questo qua sta morendo Tipo Che è un punto abbastanza doloroso Lì sotto le costole Devo ammetterlo Sì Ecco qua Ok Anche così Fatti così Tanti messi di così È carino Non li farei su di me Per appunto Perché a me piacciono I pezzoni grossi Però Devo dire che comunque Nell'insieme Non stanno male Appunto se riempie Un po' come sto facendo Il mio piede Sinistro ragazzi Se non avete visto i video Andatevi a recuperare Nella playlist Tutto tatuaggio Tutto tatu E sto facendo Il mio piede Tutto fatto appunto Così Ok Qua sta togliendo Un altro scottex Vediamo la surprise Questo è figo Dai è carino Per una ragazza è carino Ci sta La farfalla così Con metali Fatte ad ali E appunto Le altre invece Fatte a Fiori O rametti Quello che è Questo ci può stare Questo Oddio ragazzi Mi è già passato Oh mio dio Cioè Veramente E lui pure Tutto bello Fiero Così E il tatuatore Anche Cioè Cos'è No ragazzi Ragazzi Veramente Cioè Orribile 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 Guardate Cos'è Cioè è una cosa Bruttissima 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 Qua Laser Per rimuoverlo È figo Sembra rilassante Non farselo togliere Quello sicuro Ma toglierlo Così Sparaflesciare qualcuno Con La Pistolina Divertente Io lo farei Un po' più piccolo No Cazzo c'è scritto 1974 1975 Ci sono delle date Numeri importanti In verticale C'è scritto Vabbò Sono date Develli piccolini Così ci stanno Però voglio vedere Tra un po' di tempo Come diventano Alcuni numeri Faura che li possano Diventare una macchia Ok Una gamba vuota Trenta tatuaggi Trenta giorni Ok Quindi fa Trenta tatuaggi In trenta giorni Scusate Continuano ad arrivare Le notifiche Di Telegram Ne fa vedere Uno al giorno Vabbè Allora Ci interessa poco Non voglio andare a cercare Anche tutti gli altri And I said For that Fatta bene Che cazzo è La lampada Della Pixar Ma qua cosa stanno combinando Ha fatta Danpok pure La tizia Non c'ha neanche Tatuaggi visibili Almeno Che storia Figo L'avrei fatto Magari più a macchinetta E Però ci sta Ci può stare Ci può stare Comunque è una bella ragazza Gli stan bene Molto Molto da Da tribù Appunto Molto Figo Figo Ci sta Ci sta Ok Vediamo qua Un polpaccio Anche mette Tencil Allora Sembra una foresta Con dietro una luna E mo Sono curioso di vederlo finire Per forza Per forza In realtà Potremmo mandare avanti Meno male che ha messo la cosa Del poter scorrere nei video Però voglio vedere Poco a poco Tutto fatto a sfumature Poche parole Sì sì Tutto fatto a sfumature Ah e mo pure l'altro Di là fa un lupo Dietro Sempre foresta E luna Beh ragazzi Andavanti un po' Perché qua non finisce più Anche questo figo Molto molto neri Eh Però è vero che poi sbiadisce Al risultato finale Almeno Ah gli ha fatto tutto Il contorno della gamba Davanti e dietro Non l'altra gamba Ce lo fai vedere Finito? No Se non ce lo fa vedere Finito Mi incazzo Ecco Non avresti dovuto È stato un errore Porca troia Non ce l'ha fatto Vedo è finito Oddio anche questo Ne stavo parlando Ne abbiamo parlato in live Per chi era in live Ragazzi ricordate che faccio Una live a settimana Qua su YouTube Non perdetevela Di solito martedì O mercoledì Alle 21.30 Che dolore Che dolore Bruttino Però ovviamente Lì non è che tu possa fare Chissà che roba Infatti devi andare Con l'ago Perché con la macchinetta Poi ficcare una macchinetta In bocca a qualcuno Non riusci neanche a tenerla La tecnica con la quale Si viene sfregiati Sulla pelle Però che male deve fare C'è ciò che viene Una placchettina Ok qua sto disegnando L'ha stampato Prepara Ci fa vedere tutto Con più calma Poteva stendere quel lenzuolo Manco su un morto Quello sopra è orribile Dovrebbero coprirlelo Questo unghetto che sembra Dai azzù Diciamo cosa Ok carino Le linee un po' tremolanti Mi sa che sta imparando Però vabbè Altra micro scrittina L'ho più botte Muori con Cos'è che c'è scritto? Ah Muori con delle memorie Non con dei sogni Ci sta Carino Però non ce lo fa vedere E' andato il cliente Nel senso Che non ce la fa più Minchia Dopo tante ore Arrivare a spalmare Su un tatuaggio Ho provato La sensazione simile In certi punti Proprio ti spalmavano E direi lì Che volevi tipo morire No Smettila di spalmare Sta cavola di Di vaselina E copri Me lo lasciami andare a casa A morire Tipo Che cazzo fa? Ok Un fulmine Penso In faccia Che passa sull'occhio Allora Ci sta E' bello Ma finito Non so quanto posso Veramente rendere Non ce lo fanno Neanche vedere Ok Altri sputini Cos'è? E' morso Sono i segni di un morso Ammazzicato proprio qui No Dei punti Sa che vorrà dire Non lo so Se qualcuno sa Cosa vogliono dire Quei punti messi lì così Me lo scriva qua sotto Ragazzi Scrivetemelo nei commenti Ok Qua hanno fatto dei danni Che cazzo stanno Avranno rovesciato Una boccetta di colore Ah se infatti C'è scritto l'ingrosso Che ha rovesciato Metà Metà Bottiglietta Di inchiostro Madonna mia Non viene via Cioè l'inchiostro E' un casino Da far venire via Dei vestiti Pure Cazzo fan Ah ok Li hanno preso Lo stampo del piede Pensa figa Stai stanno tatuando Il piede del bambino Minchia Bello bello Vabbè sì Anch'io Mi son fatto questo qua Da solo Ragazzi La zampa del mio cane Che non c'è più E ho fatto uguale Ho preso l'inchiostro L'ho messo sotto E poi ho messo Dei fogli per terra Sul pavimento Perché comunque Se gliela prendevo Mentre la zampa Era Cioè comunque Tirata su Era un po' Chiuse Quindi non rimaneva bene E quindi Ho messo dei fogli per terra Ho sollevato il mio cane Da oltre 35 kg Avevo un bracco tedesco E l'ho appoggiato sui fogli E ha camminato appunto Sui fogli Lasciando giù le zampe E le ha lasciate Anche per tutta casa Però vabbè Ok Questo Fantasma Con le tette E i facchi Bellissimo Ha fatto bene Carino Ok Halloween tattoo Altra ragazza carina Minchia Una bella bestia Sulla pancia Che cavolo è No dai Dai Ma però non ci possono lasciare così Che cazzarola Blackout tattoo Ah questo l'ho già visto Ok si sta facendo tutto il nero da solo E Minchia Si è fatto bene Per essere fatto da solo Uniforme Poi anche dietro Che sbattimento ragazzi Che sbattimento Però è bello riuscire a farsi queste cose da solo Così Va fatto bello uniforme E se non sbaglio Si lo finisce tutto E lascia fuori il fiore Tipo È venuto Bello uniforme A meno così Sembra Magari da ripassare qualche punto Ma top top Ok qua Sempre Adesso ormai va di moda Spattasciare sopra i quintali di roba Per fare i video Ah ok Qua era per la lametta Era via tutti i peli a statizia Grazie ma non volevo vederli i peli È che mi interessava Ah la tatuatrice Sembra una di quelle di Baywatch Con quei pantaloni Ok Ma è lo stencil O è il tatuaggio Non lo so Però classica frase Inciappo sulla schiena Qua davanti Che malino Perché bomba No Questo viene uno spettacolo Se viene come penso Fatti almeno vedere finire Porca Porca troia Sì Questo Questo figo Figo Fatto così Bello Bello Mi piace sto stile Non so come si chiama Se qualcuno lo sa Me lo scrivo sotto ragazzi Beumba Bello bello Davvero figo Ok Qua sempre peli Potrebbero anche evitarci Dalla parte peli Che ci frega Vogliamo vedere il disegno Vogliamo vedere il tatuaggio Mando avanti Ok Cosa sta facendo Bello il close up così Vede l'ago Inchia se anche questo non finisce Non ce lo fa vedere Penso un fiore Un traditional Che bel verde Bello acceso Figo figo Sembra già figo Le linee fatte bene Molto bene Andiamo un po' avanti ragazzi Che qui non ci finisce più Se ce lo vedete No che bomba BOMBAAA Fatto da dio Fatto fatto Veramente bene 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 Guardate che roba Sembrava appunto un adesivo Che lo stava staccando Tipo adesivo Ok E' identico Che bomba 10 dollari Tattoo In Las Vegas Cazzo ti fa Uno Beh vabbè Già Si una schifezzina 10 dollari Vabbè Come l'hai visto Ah L'avevo già visto Allora Bello l'effetto Però Cioè Come una che è caduta E si è fatta male Cioè Questa andrà in giro Per il resto della vita Con le ginocchia sbucciate Tutti gli chiederanno Cosa hai fatto Bisogna vedere Quando guarisce Adesso c'è anche il rosso Della fiammazione appunto E' rilassante vedere sta cosa Si Che figata No Guarda che storia Vabbè ragazzi Direi che Possiamo Finire qui Col video Perché è durato già tanto Non so poi quale salverò Quale meno Ce ne sono alcune che sicuramente Sarò andato a cancellare Che erano robe horrible O tette Che giravano Niente ragazzi Spero che questo video Così un po' Come si può dire Tappabuchi Perché l'altro Ahimè Non è riuscito Adesso devo ancora editarlo E tutto e caricarlo Per domani appunto Spero che appunto Vi sia piaciuto anche questo video Vi ricordo di seguirmi qui Se ancora non l'avete fatto ragazzi Di dare sotto un'occhiata A tutti i vari link E di seguirmi anche su TikTok Trovate i link sotto Non saprei che altro aggiungere Nient'altro Bella Ciao